La nostra è da sempre una storia fatta di potenzialità ed evoluzione. Ambiziosi e intrepidi, abbiamo costruito aerei laddove tutti vedevano solo strade, puntato ai cieli mentre camminavamo sulla terra. Siamo arrivati in fretta e in quota, spingendoci oltre, orgogliosi life banker, con la sensazione di non fermarci mai. Poi quest'anno qualcosa è accaduto, l'imprevisto vero, l'emergenza non calcolabile, l'incredibile impensabile, ci siamo dovuti fermare, noi, altri, tutto il mondo. Si è alzato un muro che sembrava insormontabile, ed è lì che ci siamo ricordati chi siamo, di aver cambiato le regole della consulenza, di essere nati già volando. Non ci siamo fermati, abbiamo raccolto le energie, messo a frutto le competenze, ricordato i valori. La crisi è diventata opportunità, il muro è sparito, ci siamo trovati ancora al fianco del cliente, in un modo nuovo, virtuale, distanziato, ma sempre con l'obiettivo di realizzare i suoi sogni. Non ci siamo mai fermati davvero. Per noi hanno volato le idee, l'intraprendenza, la tenacia e il coraggio. Siamo andati ancora avanti. Ora c'è un'altra grande ripartenza da affrontare insieme. Siamo già in volo, oltre le nuvole. Life Banker, riprendiamo dal futuro. Noi ci siamo.